TACIUN TACIUPOPO TACIUN 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 TACI Peppino il conduttore è un uomo di buon cuore e paga un mezzo litro ad ogni viaggiatore dicendo chi va pian va sano e va lontan, si è fatto suoi clienti tutti i paesani Tacciunta ciupopò, tacciunta ciupopò, arriva la corriera gallaratero e le galline del quartiere all'infernale il suo rumor se ne fuggono lontan col batticuor Viva viva la corriera, la corriera di Marò 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 Viva la corriera, la corriera di Marò